Ciao, sono Mike Tribuzio, zio Mike, qui oggi per il congresso di epigenetica, congresso internazionale, amico anche di Giorgio Terziani, stupenda persona, per dare il contributo. Quale contributo? Rapport is power, il rapporto è potere. Quindi il rapporto medico-paziente, far capire quanto è importante avere un bel rapporto col paziente, avere empatia, empatos, quindi entrare nei panni degli altri, essere medici che hanno fatto un giuramento di ipocrite, non di ipocrita, e quindi far capire, comprendere quanto è importante la relazione. Quindi abbiamo lavorato, spiegato, le emozioni che abbiamo trasferite, quindi le competenze che vengono dopo. Ci sono prima le relazioni, le emozioni, poi arrivano le competenze. Se non ci sono le prime, non possono esserci neanche le seconde. Quindi ringrazio per questo bellissimo invito a questo congresso straordinario, per le belle persone, i colleghi che ho visto, gli speaker, i relatori, complimenti e anche alla scuola di formazione, stupenda. Bravo Giorgio, bravi voi. Grazie. 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 Grazie a tutti.